l'hai perso tu? è enorme! mi serve una taglia più piccola! bene, ok, abbiamo un'idea! ritaglia la parte centrale del calzino unisci un lato insieme e raccoglilo in cima c'è un soffice pompon Cassie e Joy stanno passeggiando in un parco innevato appena le ragazze si siedono sulla panchina per parlare delle ultime novità arriva un forte vento Cassie i tuoi capelli sono tutti coperti di neve lascia che te la scrolli di dosso fa un freddo cane dai le tue orecchie non si congeleranno sotto i capelli ragazze ho sentito che qualcuno qui sta per congelarsi siete fortunate che stavo facendo un pupazzo di neve qui vicino volevo mettere un cappello ma ne avete più bisogno voi grazie è un miracolo facciamoci un selfie avvolgi la palla nella carta da forno spolverizza con lo zucchero taglia delle fette di pane e cuocile in forno i toast sono pronti trita i pastelli secchi il nostro pane ha una crosta dorata è ora di preparare dei deliziosi panini una masterclass dello chef di lalilu oh sì stessi ottimo lavoro i toast per la colazione sono già pronti ciao ti sei svegliata e stai facendo colazione senza di me unisciti a me c'è abbastanza cibo per tutte e due ehi hai i capelli nel toast ah aiutami a tirarli fuori ops abbiamo perso un panino possiamo sistemare i capelli ah molto meglio grazie ecco le palline di plastica una ci servirà per fare il casco ritaglia la zona degli occhi dipingi d'argento aggiungi la protezione alla zona degli occhi con una pellicola scura ma non è ancora finita che ne dici di una coda di cavallo in rosso è fantastica che giornata meravigliosa il sole splende devo andare in moto vado a prendere il casco e andiamo prendi il corpo di un temperamatite aggiungi un cappuccio per perline attacca due cannucce dipingi la parte superiore di nero fa il corpo giallo aggiungi l'adesivo con il logo un potente soffiatore farà ballare le foglie se si è deciso di pettinarsi ma c'è pochissimo spazio nella doccia ah come faccio ad asciugarli? nella vasca mi bagnerò la schiena il pavimento è scomodo il soffitto mi serve un altro asciugacapelli ecco qui un soffiafoglie è perfetto per me molto meglio guarda cosa c'è nello scrigno attaccane un pezzo a una cannuccia wow è un tagliacapelli ehi c'è qualcuno? oh adoro i tagli di capelli corti ma i miei capelli ricrescono troppo in fretta ho capito Antonio ti farà un nuovo taglio i tuoi capelli sono molto robusti mamma mia Antonio aggiungerà la sua parte di creatività voilà un taglio di capelli asimmetrico non ci resta che acconciarli torno subito ci sono tante cose interessanti sul tavolo le forbici sono pesanti wow che bella tavolozza come si fa a usare questa cosa? che casino mamma mia cosa hai fatto? ok Antonio niente panico ho in serbo un prodotto meraviglioso per casi come questo adesso è quasi come prima grazie mi hai salvato ci serve il filo di ferro il tulle rosa è diventato un tubo mettilo su un nastro elastico che belli elastici mi sono svegliato un secondo fa e i miei capelli mi hanno già causato molti problemi devo comprare subito degli accessori online oh il ragazzo delle consegne è già arrivato non osate aggrovigliarvi mi avete sentito? il cerchietto vi tiene indietro intreccerò alcune ciocche la mia conciatura lascerà tutti di stucco ahahahah vai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti oh ora mi prenderò cura di me stessa avremo bisogno di un po' d'acqua mescola i pigmenti colorati il liquido è bellissimo attacca il primo tappino riempi un'altra bottiglia con balsamo e glitter dorati presto sarà tutto luccicante stessi sta pensando al programma della giornata con una tazza di caffè beh devo andare oh scusami mi dispiace tanto non volevo è ora di andare al salone di bellezza buon pomeriggio mi aiuteresti con questo? mamma mia dovrò lavorare sodo ops non c'è abbastanza balsamo ma non importa abbiamo delle confezioni più grandi in negozio il massaggio al cuoio cappelluto è offerto dalla casa successivamente mettiamo il balsamo è il sogno di ogni principessa grazie hai fatto un miracolo vai fissa un fiore a un anellino di metallo fissa anche il manico aggiungi una mezza perla andiamo che affa il mini ventilatore ti salverà e io cercherò di rinfrescarmi in piscina acqua fresca che bello ma i capelli di Karen si sono bagnati dopo la nuotata senti dammi il tuo meraviglioso ventilatore ho un'idea grazie è bello poter asciugare i capelli corti con un mini ventilatore ahahah ush quante cannucce coprile con il velcro ecco dei bigodini pronto? un appuntamento dai stessi preparati proviamo con le trecce due una no sono ancora lontana da una pettinatura elegante delle belle onde un po' di pazienza e abbiamo finito stupendo sei stupenda grazie 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 grazie